Nella Basilica Pontificia a San Biagio dedicata, celebrazione eucaristica del Giovedì Santo, detta anche in cena domini, con il rito della lavanda dei piedi in ricordo dell'ultima cena che Gesù ha fatto con i suoi discepoli prima della passione e morte sulla croce. Celebrazione preseduta da Don Tiziano Cantisani, partecipata da tanti fedeli che hanno pregato davanti al bellissimo sepolcro realizzato in Basilica. I canti affidati alla corale San Biagio diretti da Angelo Rizzo. Siamo qui nel santuario di San Biagio, nella Basilica, e questa sera con la celebrazione Giovedì Santo abbiamo iniziato il triduo pasquale. La celebrazione di oggi ci pone al centro della nostra fede, ci pone la riflessione e la meditazione sull'istituzione dell'eucaristia e l'istituzione del sacerdotio. Ed è in Gesù Cristo che si realizza pienamente l'offerta di sé, l'offerta del proprio corpo e del proprio sangue in espiazione per la salvezza di tutta l'umanità. E proprio con questi sentimenti vogliamo celebrare l'eucaristia, vogliamo avvicinarci sempre di più al mistero della nostra fede, cercando di vivere, ecco quell'amore fraterno che Gesù ci ha indicato come strumento per vivere insieme in comunione col Lui che è il Maestro e il Signore. Giovedì Santo